Il più facente rivoluzione dell'anno scorso e quella di quest'anno vince che Maradona il Bologna di Tiago Motta e la quinta vittoria degli ultimi sette trasferti che vale il terzo posto Io non ne ho di parole perché di fronte a questo spettacolo orribile di parole non ce ne sono più Questo è uno sfogo silenzioso perché a cosa servirebbe lanciare oggetti, spaccare divani, distruggere televisori Scamazzare telecomandi non servirebbe a niente Il silenzio e l'indifferenza verso un gruppo di giocatori che quest'anno ci ha fatto vergognare Quest'anno ci ha fatto vergognare è la migliore soluzione possibile Detto questo, tanto di cappello al Bologna, non sono né il primo né l'ultimo che si deve togliere il cappello di fronte a un'impresa pazzesca quella della squadra di Tiago Motta perché anche oggi sono venuti a fare il bello e il cattivo tempo al Maradona hanno deciso loro i ritmi, hanno deciso loro come si doveva sviluppare la partita l'hanno chiusa in tre minuti nel primo tempo e di fronte avevano una squadra che non aveva proprio dentro di sé la forza fisica e mentale di trovare una reazione quindi è stato un lungo calvario per noi che lo abbiamo vissuto da fuori per loro è stata una lunga, allegra passeggiata sull'erba del Maradona a venirsi a portare via quei punti che ormai manca pochissimo la portano in Champions League con merito indiscutibile e noi invece siamo qui a vivere l'ennesima partita di un gruppo di uomini senza orgoglio senza orgoglio perché per quanto abbiano giochicchiato si vede lontano un chilometro che questa è una serie di esseri umani che non hanno più orgoglio e che dà fastidio, credetemi, vedere che indossano quella maglia perché non rispettano il sentimento che bisognerebbe provare indossando quella maglia soprattutto per tanti di loro quelli che l'hanno conquistato quel qualcosa che portano sul petto e che domenicalmente ci sputano sopra io sono stanco, credetemi, stanco di assistere ogni volta che questi scendono in campo ad uno sputo in più su un titolo tanto agognato, tanto desiderato quanto, quanto vomitato nelle ultime 30 partite quelle che sono quest'anno perché veramente vedere gente che gioca senza spirito senza voglia senza un obiettivo perché alla fine questo è giocare per onore di firma siccome io sono pagato da questa società gioco tanto ormai quello che dovevamo fare abbiamo fatto e adesso devo soltanto portare al termine una stagione disastrosa sotto tutti i punti di vista però chi ti guarda da fuori e che comunque spende del tempo della voglia della passione si sente offeso si sente offeso da quello che vede perché voi ci state offendendo ci state offendendo poi che tanti abbiano la testa altrove chi magari ha la testa all'europeo chi magari avendo la testa altrove non vuole farsi male quindi non spinge particolarmente sull'acceleratore ma io potrei anche capirlo potrei anche capirlo però sinceramente tutto l'amore che ti è stato dato nel corso degli anni in cui sei stato con questa maglia lo stai ricambiando davvero con un'offesa a tutti quanti noi a tutti quanti noi non voglio esprimermi sul signore in panchina perché tanto che cosa dovrei dire su questo personaggio qui che dice ho visto una settimana abbiamo fatto bene che cazzo hai fatto bene ma si può sapere cosa hai fatto bene qui non c'è niente di tecnico da fare qui ci sarebbe soltanto da lavorare sulla testa ma se non si può lavorare sulla testa perché è impossibile farlo con questi ragazzi ma vai a dirlo quando vai a fare interviste la squadra ormai è distrutta è stanca non ha più voglia è inutile che mi viene a dire abbiamo lavorato bene la testa si vede che questa è una squadra che non ha più niente dentro di sé non ha più niente dentro di sé io non me la sento di aggiungere nient'altro domani una sorpresa per quello che riguarda le pagelle saranno davvero interessantissime e permettetemi di dirlo imperdibili per questa sera io vi ringrazio vi saluto vi auguro una buona serata un buon weekend tutto quello che farete ma raccomando statevi buoni non dimenticatevi anche che il calcio fa bene alle ossa ciao